salve a tutti ragazzi bentrovati per questo nuovo video tanti di voi mi chiedono di giocare ok eccomi qui oggi andiamo a giocare per giocare cinque partite con l'account j garcia saturn primo dei cinque astri di saggezza sceso in campo in one piece allora abbiamo un punteggio alto è abbastanza alto quindi si iniziamo a giocare seriamente però vorrei anche poter dare spettacolo quindi fare qualche apertura strana qualcosa di particolare perché non una difesa 300 perché non aperture strane appunto ora vediamo apertura granchio apertura scorpione queste qui ok allora qui non ci sto capendo nulla perché sto andando in automatico intanto quindi cinque partite le voglio vincere tutte cinque perché ovviamente a scacchi si gioca per divertirsi ma non c'è nessuno che gioca a scacchi per perdere quindi se vinciamo meglio no tanto meglio qui catturo in d5 vediamo un pochino cosa succede partite veloci a tre minuti quindi non è che ci sia molto tempo per ragionare in più sto parlando sto comunicando con voi vi ricordo di mettere mi piace di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo grazie a tutti coloro che stanno supportando il canale ultimamente ho mancato di ringraziare tante donazioni super grazie eccetera grazie a tutti ragazzi per avere fiducia in questo canale e per il supporto e niente continuiamo le partite lui vuole ripetere vuole ripetere la posizione però a me sinceramente non va proviamo a fare donna a 5 scacco ok ora altro scacco con la torre mi fa sviluppare la torre gratis ok e ora cosa possiamo fare proviamo questa sperando che non sia sbagliata però lui potrebbe arroccare tranquillamente non la becca perfetto ora non può più arroccare può giocare quella giusto gli do scacco di nuovo viene lì e ora vengo qua per attaccare ora se lui dovesse arroccare perderebbe b2 esatto perde il pedone in b2 e siamo in vantaggio vediamo un po devo dire che mi manca lices molto presto potrei anche provare a fare una scalata sullices magari portando anche due video al giorno sul canale perché no ma ora vediamo e vediamo se ho proprio il tempo di farlo uno magari dove commentiamo le partite i vari Carlsen, Caruana, Nakamura, Neiman non dimentichiamoci di Neiman a volte Fischer e Tal che sono due ex campioni del mondo che hanno fatto la storia degli scacchi con due stili di gioco veramente unici e perché no anche giocare a scacchi visto che tanti mi chiedono porta video in cui giochi eccoli sono questi allora alfiere in b4 facciamo così donna e 6 qui devo difendere mi sa che lui poteva anche catturare mi ero proprio distratto mi mette un pezzo in presa a 1962 mettono pezzi in presa ancora attenzione non ci posso credere e non abbandona non abbandona ok però qui difendiamo un po tutto quindi donna difende l'alfiere se mi cattura catturo sto bene posizionalmente ole si cattura in f3 ora su torre per torre torre per non c'ho altro vero no torre per e basta insomma qui questa è da abbandono penso dovrebbe abbandonare potrebbe abbandonare non lo so pearson 82 interessante questo pearson pearson chi era era uno che si occupava di statistica per caso forse anche psicologo ma non lo so bene allora qui niente c'è poco da fare questa partita come si vince o la torre in più o vari pedoni in più tra poco andrò a promozione lui a 18 secondi 19 secondi decide di abbandonare vinciamo così la prima partita ora facciamo un'altra partita e intanto stiamo arrivando a 2000 comfort table vedete che ora sull'icex accanto al nome c'è una emoticon praticamente c'è un'immagine e ora l'icex in pratica sta diventando un po come chess.com no avevamo detto aperture particolari strane perché sto giocando in automatico vabbè dai è solo la seconda partita vi prometto che le altre tre partite darò spettacolo intanto qui ho giocato una mossa particolare strana ovvero cavallo f6 non so quanto vada bene lui potrebbe catturare intanto e ci sta pensando 1949 attenzione sta per giocare la mossa del secolo no non si fida e allora giochiamo al 3 g7 vediamo se si fida ora cavallo per c6 questa spinge però mi sa che quella in quel caso sarebbe stata una variante teorica invece qui a rocco gioca f3 accidenti f3 quindi fatemi capire su questa cosa succede se catturo lui cattura guadagna un pezzo riprendo indietro il pezzo cattura guadagna la donna riprendo indietro la donna lui cattura qui in f7 credo e quello potrebbe essere un problema perché se catturo in f7 posso catturare mi arriva alfiere scacco catturo poi lui mi cattura e si rimane con due torri alfiere e io invece rimango con una torre due alfiere no 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 non si può così allora direi di fare non so donna b6 vediamo cosa succede su questa sto attaccando semplicemente il cavallo in d4 sono anche messo a pensare 1990 vinciamo questa sono sicuro che superiamo i 2000 ok lui gioca a quella ovvero alfiere 3 quindi cavallo per e4 sto aumentando la pressione lui gioca la mossa migliore attenzione quindi donna in a5 scacco si vede che la conosce qui cavallo in c5 mi cattura con scacco ma che assurità è mai questa mi ha regalato un pezzo non ci posso credere e abbandona e siamo a 2 su 2 2 su 2 boom fatemi sapere se volete più di questi video se devo giocare a 3 minuti se devo giocare a 5 minuti se devo giocare a 10 minuti come preferite le partite prossima next one ok abbiamo detto aperture strane allora beccatevi questa b4 alfiere b2 attacco ok sviluppiamo i pezzi ritiriamo indietro l'alfiere sviluppiamo ancora i pezzi va in automatico il tipo attenzione fanno paura questi ok alfiere b3 va velocissimo mi piacciono quelli che sono decisi che vogliono vincere a tutti i costi ci vuole un po di agonismo quando si gioca a scacchi alfiere g4 me l'aspettavo quindi pensavo giusto appunto a questa qui anche a3 ritira qui anche g4 ok e qui anche di no questa non la posso fare vero ops mossa irregolare mossa irregolare no quella non si può fa arroccare non so se arroccare vabbè faccio cavolo c3 ora arriva questa suppongo ma è è mostruoso il tipo cattura ma è fortissimo questo tipo arrocco attenzione pedone in meno tempo in meno pedone in meno io voglio fare cinque vittorie di fila mi devo assolutamente concentrare cosa sta succedendo abbiamo detto cinque devono essere cinque guardate cosa fa cos'è sta roba ragazzi qual'è il trucco qui noo illegale questa roba è illegale nooo cosa sto vedendo attenzione intanto ho recuperato con il tempo in realtà anche posizionalmente ma non mi fido molto ancora di questa posizione dovrei cercare di semplificarla in qualche modo guarda che roba guarda mamma mia se io facessi questa no se io facessi questa lui potrebbe giocare questa catturo mi entra con scacco e perdo la partita sostanzialmente mi tocca fare così cavallo g3 partita molto tosta questa non ci credo guardate come gioca il tipo ok vengo qua per forza però nonostante tutto forse ma proprio forse non sono messo malissimo vediamo eh magari donna in c3 guardatelo ok donna c3 speriamo bene che di lo sapevo lo sapevo e niente sono un po in difficoltà effettivamente cosa faccio qui giuro ragazzi non so cosa fare facciamo una mossa un po a caso un minuto che lui ha giocato f6 senza nessun problema tranquillamente proprio posizionalmente mi sta proprio devastando di brutto però vedo che gli sta scendendo il tempo ok questa mossa sviluppa un pezzo bravo bravo allora fallo sviluppare pure a me nooo non ci credo dai non posso perdere non posso perdere eccolo lì a posto fine della storia perso abbandono no scherzo ancora no ah ora c'è un cavallo in presa ok ora posso catturare sì volendo oddio mio scacco eh perché lui vuole catturare pure qua allora niente devo catturare devo fare questa 18 17 secondi qui ma sì qui facciamo questa per non fare cavolate ok ora così no mi entra dio mio ok questa 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 oh no meno male meno male nooo non ci posso credere ragazzi non ci posso credere per un secondo ha vinto e io che volevo fare 5 vittorie di fila certo questo ha comunque giocato eh non me l'aspettavo di perdere contro un 1938 con un'apertura con la quale volevo dare proprio spettacolo tra l'altro bello bello italiano 69 vai allora a lui gli gioco la difesa 300 che sicuramente conoscerà dato che avrà sentito parlare del canale matto scacco non funziona nooo non ci credo no aspetta aspetta perché così siamo partiti male non posso disonorare la difesa 300 comunque cioè non esiste proprio quanto ha 1992 è un buon un buon punteggio si mio dio stiamo un po' calmi qui ok molto agguerrito pure lui ma giustamente ma se uno ti gioca a ste aperture come dovresti reagire come dovresti reagire se uno ti gioca a ste aperture devi assolutamente punirlo eh lo devi punire ora stanno uscendo dalla scuola quelli delle elementari e probabilmente voi sentirete dei suoni strani particolari ecco sono i bambini delle elementari ok che c'è una scuola qui vicino quindi quelli che fanno il turno por meridiano escono a quest'ora saranno le 16 circa 16 e 10 allora vediamo di recuperare questa partita ho solo un pedone in meno la difesa 300 è una difesa micidiale un'apertura fantastica bellissima clamorosa speciale boom abbiamo recuperato il pedone qui attacco c4 eeeh ha stratificato un pezzo ma che fai? oh vedete? a livello psicologico a livello psicologico la difesa 300 è un'apertura devastante tocchiamo ok questa perfetto amico mio e ora fammi vedere come fai a vincere è abbandonato oh si 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 questa è l'ultima partita ragazzi eh l'ultima partita ha divisa 300 attenzione ta ha offerto la rivincita probabilmente conosce il nickname j garcia saturn eccolo lì eccolo lì che stavolta non regaliamo niente bam difendo tutto cavallo f3 bam cavallo g5 mi da scacco vengo qua preparo alfiere e2 alfiere f3 le partite iniziano a diventare interessanti qui si cattura subito si gioca pedone c3 non ci voglio più pensare non ci voglio pensare a questa partita dai andiamo veloci perchè lui va molto veloce oh mio dio perso la donna bravo bravo ci sta ne volevo vincere 5 mi sa che ne vincerò solo 3 che comunque è più del 50% io mi voglio comunque impegnare anche se ho la donna in meno eh si no ora sono un po' fregato eh nooo mi sa che è arrivato il momento di abbandonare ok beh oddio aiuto veramente eh questa boh auto matto ora prendo auto matto oh mio dio e vabbè ragazzi voglio essere onesto perchè non ha senso il video non avrebbe senso in questo modo abbiamo provato a giocare la difesa 300 abbiamo fatto una vittoria e una sconfitta mi sembra un risultato ottimo e lui scappa giustamente scappa non la vuole mica la rivincita ha perso contro la difesa 300 si è rifatto ha detto vedi io ti posso battere quando voglio è stato un caso la mia sconfitta giustamente e poi se ne va sul 1 a 1 non vuole il 2 a 1 per lui giustamente era la quinta partita ne abbiamo 23 perse 2 se farò ma sono sicuro che farò altri video con Jay Garcia e Saturno in futuro ormai abbiamo un punteggio decente beh quanto so 2004 o meno non lo so comunque farò partita più seria grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere mi piace ed iscrivervi al canale ciao e alla prossima